ciao a tutti sono monica cagnone sono un insegnante stamperia oggi voglio presentarvi alcuni progetti che ho realizzato con la nuova crystal resin di stamperia un prodotto veramente ottimo molto semplice da utilizzare che dà dei risultati veramente sorprendenti questi ciondoli ad esempio sono stati realizzati utilizzando la resina praticamente io ho colato la resina rispettando logicamente le giuste quantità come descritto sulla confezione in uno stampo di silicone e l'ho colorata con i colori apposta che servono appunto per la colorazione della resina ho aspettato l'asciugatura e poi li ho estratti dal 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 calco per poi andarli ad attaccare su semplicemente un pezzettino di carta colorata attaccata sul cartoncino per renderla un pochettino più più robusta sul quale ho nuovamente versato della resina trasparente e dei flakes piuttosto che brillantini o altri altre cose che vengono inglobate dalla resina e quindi l'effetto è veramente particolare e molto divertente anche da utilizzare ci sono i calchi appunto predisposti per per la resina oppure anche i semplici calchi di silicone che si usano anche per i gessi o per altre o per altre cose questo invece ad esempio è un altro progetto di nuovo molto molto semplice ho utilizzato la nuova carta della collezione winter tales di stamperia e ho semplicemente attaccato la carta su due cartoncini rotondi su questi cartoncini ho fatto cadere dei brillantini dei flakes insomma quello che volete e su questa ho versato la resina questa volta così bianca trasparente così come come la vedete ho dato il tempo alla resina di asciugarsi diventa veramente vedete una specie di vetrificazione quasi quindi la consiglio perché è un prodotto molto d'effetto e facile da utilizzare ciao a tutti